Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera, oggi siamo qui in nuovo video, torniamo a parlare di tattiche queste tattiche mi sono state richieste da un utente su TikTok e quindi sono qui comunque sia a mostrarle a lui che comunque a portarle a voi in quanto le ho provate, mi sono trovato anche bene, le ho utilizzate in Rivals, ho scalato, sono tornato in Division Elite allora andiamo subito a vedere la rosa che è un po' cambiata rispetto all'ultimo video come potete vedere ho sbloccato comunque Tiago Silva perché l'ho fatto praticamente gratis e mi sta dando delle grandi soddisfazioni ho comprato Aitan al posto della Pati Guiarro e io l'ho maxato nella sua evoluzione ho rimesso la Rolf che però soffre un po' contro gli esterni un po' più veloci e devo vedere un po' come sistemare questa situazione perché altrimenti dovevo comprare Mendy per il resto questa è la squadra e bando alle ciance andiamo alle tattiche oggi vi porto le tattiche del 4-2-3-1-2 ovvero il 4-2-3-1 con gli esterni per quanto riguarda la fase difensiva abbiamo equilibrato 38 di ampezza e 65 di profondità così per chi ha problemi difensivi non andiamo a sfruttare troppo il fuorigioco automatico però stiamo un po' più alti perché comunque raga se vi schiacciate quest'anno è finita costruzione e manovra equilibrato e passaggi retti ampiezza 40 perché già di per sé è un modulo largo questo 4-2-3-1 e noi andiamo comunque a sfruttare un po' di più l'ampiezza stretta per fraseggiare tra CDC e COC soprattutto perché è il perno di questo modulo e il COC che dovete sempre fare riferimento su lui quindi avendo 40 abbiamo gli esterni di base stretti che poi voi volendo con la corsa con una skill qualsiasi altra cosa voi potete comunque allargarvi e andarvi a prendere il fondo per la classificazione a scaletta giocatori in aria 6 perché dobbiamo sfruttare comunque tutti gli inserimenti possibili per gli extra pass in aria senza però rimanere troppo scoperti in fase difensiva andando al modulo ho deciso di impostarlo così e per quanto riguarda le istruzioni abbiamo al portiere nulla se poi comunque avete un portiere decente in questo caso Alisson lo può fare potete mettere uscite sui cross e portiere fuori dai pali così andate un po' a difendere il German cross anche il kickoff glitch iniziale la palla la buttano avanti e il portiere comunque tende ad uscire e l'avversario potrebbe un po' impallarsi poi ovviamente se il portiere non è decente raga evitate perché se no fate solo guai per quanto riguarda i terzini abbiamo un terzino sbloccato che è quello più tecnico in questo caso ho deciso di sbloccare Yolente perché è una carta clamorosa dall'altro lato ho impostato il resto di un attacco so che anche la Rolf è molto tecnica soprattutto per il playstyle però comunque ho notato che se la mando troppo avanti dietro sono scoperto invece Yolente avendo anche più velocità nonostante sia sbloccato è sempre sia avanti che dietro anche per il suo war che è tanto alto quindi un terzino sbloccato e un terzino indietro per quanto riguarda invece il cdc qui abbiamo una cosa molto importante abbiamo il cdc più difensivo con restate in attacco, copertura a centro e regista arretrato cosa fa regista arretrato? praticamente come dice qui la dicitura svaria e sfrutta gli spazi per offrire più opzioni di passaggio quindi quando siete in fase di partenza molte volte capita che tutti se ne vanno avanti soprattutto con passaggi diretti con regista arretrato si trasforma in un cc ma difensivo che vuol dire che lui scende, si prende il pallone, prende lo spazio migliore e ve lo trovate quasi davanti alla difesa in modo da far ripartire la manovra quindi è molto utile ovviamente prendete un cdc difensivo ma che abbia dei piedi buoni altrimenti l'effetto è nullo per il cdc offensivo in questo caso ho la buona itana bombati o bombati come preferite abbiamo solo copertura al centro ed avanza perché avanza? perché comunque ha il playstyle tecnico ha il tiro a giro ha qualsiasi altro playstyle sbroccato e quindi con avanza lei si inserisce in aria ha un buon passaggio potete fare gol può tirare di destra e di sinistra perché comunque nonostante il 4-4 segna tranquillamente e quindi avete una mano in più in fase offensiva per il cc non toccate niente lasciatelo equilibrato però se riuscite mettete un giocatore simile Neymar quindi molto tecnico che sa tenere la palla può schillare quello sarebbe il top per gli esterni invece abbiamo taglia dentro, accorcia ed entra in area per i cross qui con accorcia già è capitato in un altro modulo cosa succede? quando avete la palla col terzino molte volte ripeto partono in avanti con accorcia loro si vengono a prendere il pallone e non avete problemi poi se volete farli scattare vi basterà utilizzare la meccanica dell'L1 per farli scattare in avanti però è molto meglio l'accorcia perché così non avete distanza tra il reparto difensivo e il reparto offensivo per la punta solo una nuova istruzione che è torre quindi qui mettete un attaccante puro io ho provato Griezmann e va benissimo solo che adesso avendo Rooney non posso mettere Rooney sulla fascia perché è molto lento cosa fa torre? praticamente torre si mette con la schiena davanti all'avversario gli scarica del pallone e vi fa da sponda e cosa succede? con Neymar sbloccato quindi col C.O.C. sbloccato e il C.O.C. in avanza praticamente succede che Rooney paradossalmente diventa un C.O.C. e poi Neymar si inserisce insieme all'Aetana quindi quasi un come se diventasse un rombo un 1-2 davanti quindi un 4-1-2-1-2 in certi momenti in fase offensiva e automaticamente poi avete lo scarico sull'esterno avete anche lo scarico sul C.D.C. difensivo che comunque avanza e poi avete ricordate sempre un terzino sbloccato che vi dà sempre un'opzione di passaggio in più queste sono le tattiche che sto utilizzando per il 4-2-3-1-2 fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi trovate bene se le utilizzerete mi raccomando qualsiasi feedback per me è importante se volete vedere qualche altro modulo vi basterà commentare qui sotto sia su YouTube che su Instagram o anche su TikTok ed io provvederò il prima possibile a portarvi questo contenuto lasciate un mi piace condividete e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video un saluto da Gera ciao